Buonasera a tutti, è il 9 marzo 2021, non pensavo di fare questo video questa sera, immaginavo di parlarvi della partita Juventus-Porto nella giornata di domani, visto che prevedevo una facile vittoria dei bianconeri che avrebbero in questo modo raggiunto i quarti di finale della Champions League edizione 2020-2021, invece è maturata una clamorosa sorpresa, la Juventus è fuori, lascia la Champions League ancora una volta questa coppa maledetta per i bianconeri, una partita stregata quella contro il Porto, una partita che ridimensiona molto anche le ambizioni di questa società che dopo aver conquistato 9 scudetti consecutivi puntava fortemente alla conquista di questo trofeo che da troppo tempo manca in bacheca, sono sette le finali di Champions League perse dalla Juventus, sono veramente tante, forse un giorno nella rubrica storia del calcio devo fare proprio una trasmissione sulla storia di queste sette finali, sono veramente tante, perse dai bianconeri e la Juventus questa sera ha vinto 3 a 2, aveva perso 2 a 1 a Porto come sapete dove probabilmente ci è come si dice a Roma tra virgolette impiccata la qualificazione perché ha regalato sostanzialmente due gol, diciamo subito che nell'altra gara in programma oggi Dortmund e Siviglia hanno pareggiato 2 a 2, doppio vantaggio dei tedessi con il solito Hollande, è stato molto bravo il Siviglia che ha lottato fino alla fine con LN, questo giocatore si chiama Enesiri, c'è entra avanti del Siviglia che ha segnato due reti e quindi una sul calcio di rigore, la prima e quindi fino alla fine hanno lottato ma alla fine sono stati eliminati e diciamo che io sono piuttosto stupefatto perché la Juventus è una squadra secondo me anche più forte del Porto, questa partita l'avevo detto in sede di ripresentazione della stessa aveva un valore economico importante, valeva 10,5 milioni di euro, cioè passare questo turno significava introitare 10,5 milioni di euro a vario titolo, i contributi dell'UEFA, i diritti televisivi, i sponsor eccetera eccetera, valeva 10,5 milioni di euro, non è che ne fa un discorso solo economico, però il naturalmente piano di lavoro, il business plan come lo dobbiamo chiamare, il progetto di una società purtroppo si basa molto su quello che ci saranno i soldi che si possono spendere nell'anno successivo quindi è chiaro che ci sarà un po' un ridimensionamento perché la Juve esce troppo presto dalla Champions League, esce agli ottavi di finale ma non è certamente una novità, è uscita anche l'anno scorso, agli ottavi di finale con Sarri eliminata da Lione ma anche due anni prima è uscita ai quarti, ricorderete contro l'Ajax quindi la Juve si conferma purtroppo in qualche modo inadeguata alla Champions League, è un po' un mistero del calcio ma sta diventando un po' un mistero del calcio, io ripeto sono abbastanza sorpreso perché penso che quando nella partita di oggi è stato espulso anche con grande ingenuità l'attaccante Lusitano Taremi nel secondo tempo abbiamo tutti fatto lo stesso ragionamento, abbiamo tutti immaginato che non ci sarebbero stati particolari problemi perché questa partita si è complicata con subito, innanzitutto vi do le formazioni che sono scelte in campo, Juventus e Porto si sono affrontate con orario di inizio ore 21 con un modulo speculare 4-4-2, la Juve con il polacco Cerni tra i pali, Quadrado, Bonucci, De Miral e Alexandro, Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey e le due punte sono state Fernando Morata e Cristiano Ronaldo, un Cristiano Ronaldo che oggi sicuramente non ha brillato come non ha brillato anche in una partita d'andata, sembra quasi un po' condizionato dal fatto di giocare forse contro dei portoghietti, non so, ma l'ho questa impressione, l'ho visto veramente spento, ho visto anche incacciarsi, incavolarsi tante volte però non lo so, non è stato il solito Cristiano Ronaldo, magari aveva qualche problema fisico, Porto in campo con Marchesin fra i pali, Manafa, Mbemba, Pepe e Cianusi in difesa, trevitosa la prestazione difensiva soprattutto di Pepe, la mediana è stata formata da Corona, Oliveira, Uribe e Otavio, le due punte sono state, sono state gigantesco Maregà e Taremi che poi è stato espulto gravurosamente, la partita si è messa male subito, si è messa male perché il Porto è passato in vantaggio con un calcio di rigore già al diciannovesimo di Sergio Oliveira, un giocatore molto tecnico, un bel giocatore Sergio Oliveira, il primo tempo quindi finisce 0-1, la Juve parte all'arambaggio nella ripresa, tutto sommato anche sullo 0-1, io sono abbastanza tranquillo perché pensavo che da osservatore, da tifoso diciamo italiano che comunque nelle coppe tende a tifare squadre italiane, che tutto sommato due gol si potevano anche fare, la Juve parte all'arambaggio, grandissimo gol di Federico Chiesa, c'è stato il sospetto con il gioco di Ronaldo, ma la Vara si ha confermato il gol, il pareggio della Juve, il Porto rimane in 10 con una clamorosa ingenuità di Taremi che dopo essere stato ammonito allontana la palla successivamente in un'altra azione a gioco fermo per guadagnare tempo, un gesto veramente ingenuo e lascia la sua scuola in 10, a quel punto la partita sembra segnata anche perché poi la Juve trova il secondo gol, ancora con Chiesa scatenato, grande partita di Federico Chiesa oggi che conferma di essere stato forse il miglior acquisto di quest'anno nella Juve, ma nella Juve ci sono troppi secondo me equivoci, sono degli equivoci giocatori che secondo me rabbio Ramsey, Artur, ci sono troppi giocatori che sono un po' fumosi a volte, che sono poco continui nella stessa partita, nell'ambito di 90 minuti, anche Kuluseski oggi che è subentrato, non mi è piaciuto per niente, mentre è entrato molto bene Bernardeschi comunque sul 2 a 1 la situazione, la pratica sembra risolta, sembra risolta, tutti si aspettano il terzo gol, lì la Juve commette un grosso errore, cioè quello di pensare di avercela fatta contro un pot in 10, 2 a 1, in vantaggio 2 a 1, mancava solo un gol per centrare la qualificazione hanno fatto passare troppi minuti, poi in controllo il pot è venuto un po' fuori negli ultimi minuti la Juve stringe da sedio la porta dei Lusitani per trovare il gol qualificazione viene annullato un gol di Morata al 91esimo, è un po' il gioco, è un po' il gioco che c'è poi proprio all'ultimo respiro, grandissima azione di Quadrato sulla fascia destra Quadrato è un esterno, gioca da esterno basso, ma ci ricorda benissimo di aver cominciato come esterno alto è ancora sostanzialmente un attaccante aggiunto nelle fasi offensive grande dribbling di Quadrato, la fascia destra spotta la palla dal destra al sinistro bellissima traiettoria disegnata dal sinistro di Quadrato, collo interno a giro sul secondo palo il portiere è superato, sembra tutto fatto, ma qualcosa va storto in questa serata della Juventus la sfortuna si mette di traverso, la palla di Quadrato colpisce la traversa, la parte interna della traversa e torna in campo la palla, forse un centimetro era sufficiente più in basso per finire in posta, massimo due centimetri penso un centimetro era sufficiente, tiro bellissimo, sembra tutto finito, ripeto la traversa dice no e finisce finiscono i tempi regolamentari a questo punto ancora tutti naturalmente fanno lo stesso ragionamento la Juve in 11, il Porto in 10 quindi più passano i minuti e più saranno stanchi, più sarà facile stanarli e fare il gol qualificazione e qui bisogna riconoscere i meriti di Sergio Concecao che, giocando tanti anni in Italia ha imparato secondo me tante cose, è riuscito a disporre la squadra seppure in 10 con grande intelligenza grandissima prova in difesa di Pepes, partita stervitosa, anche il portiere mi è piaciuto molto del Porto il merito del Porto qual è stato? è stato quello di cercare sempre di giocare a pallone, di cercare di non cercare il giro palla di partire dal basso come era di moda oggi con questi retropassaggi, ha cercato sempre di giocare anche negli ultimi minuti quando avrebbe avuto interesse a tenere palla, a farla girare partendo dal basso il Porto spesso ha fatto anche dei lanci lunghi quando c'è stata la possibilità di farlo e ha fatto, ha messo sul tavolo quello che sono le qualità di questa squadra che sono le qualità tipiche, che conoscete benissimo, del calcio portoghese cioè la caratteristica del calcio portoghese è che i Lusitani sono dei grandissimi palleggiatori sono dei giocatori estremamente tecnici, un tempo il Portogallo, la nazionale del Portogallo veniva chiamata il Bratile d'Europa proprio per questo motivo e quindi il Porto non ha mai rinunciato ad attaccare sul 2 a 1 cosa succede? Succede che c'è un calcio di punizione per il Porto, siamo al centoquindicesimo minuto sulla palla si porta ancora una volta Sergio Oliveira, la distanza è ragguardevole, per lo meno 25 metri forse anche di più, tutti ci aspettiamo, palla sul centro-sinistra rispetto al limite della rigore molto fuori dalla rigore ho appunto parlato di 25 metri tutti si aspettano la parabola, la traiettoria sul secondo palo, anche sul primo, a scavalcare la barriera e anche in barriera due giocatori che dovrebbero essere il Popo piziano nato, saltano, saltano Sergio Oliveira decide di cambiare la storia di questa Champions League tenta cioè il tiro più semplice possibile, cioè dritto per dritto rato terra contro la barriera batte e bassa la barriera, se la respingono, la respingono, ma se passa, se passa può ingannare il Pottiere così Sergio Oliveira va a tirare questa punizione, collo destro forte, neanche un tiro particolarmente violento saltano, ripeto, credo Ronaldo e Morata, la palla passa sotto alle gambe dei due difendi, dei due Juventini sorprende Cerny, sorprende Cerny che si tuffa ma con quel leggero ritardo che nel calcio ad alti livelli fa tutta la differenza di questo mondo il portierone polacco, ex Roma, ex Arsenal, si distende in tuffo sulla sarestra tocca il pallone ma non riesce a deviarlo, la palla finisce in porta gol pesantissimo anche a livello psicologico per la Juventus due a due, siamo al centoquindicesimo, ma incredibilmente sembra tutto compromesso a questo punto la Juve ha pochi minuti per segnare ben due gol contro una squadra che si sta difendendo benissimo al centodiciassettesimo, calcio d'angolo due minuti dopo, calcio d'angolo del Potto, palla in mezzo calcio d'angolo scutare per la Juventus palla in mezzo, salta a centro aria Adrien Rabiot che fa valere la sua altezza, il suo stacco palla colpita benissimo di testa, finisce all'incrocio dei pali 3 a 2 e a questo punto la Juve va enforcing per segnare il quarto gol il quarto gol il Potto naturalmente chiude tutti gli spazi diventa una difesa all'ultimo sangue proprio una partita combattutissima e all'ultimo respiro con questi palloni buttati in mezzo secondo me c'è un fallo un fallo da rigore su De Ligt che aggancia il pallone poi riceve questo colpo e cade a terra in piena area di rigore tutto spostato sulla destra secondo me è calcio di rigore adesso lo vedremo meglio domani in base alle varie moviole chiamiamole così inspiegabilmente l'abito non va a lavar ho visto io, decido io e non da rigore quindi a fine partita lo stesso Pirlo che come tutti sappiamo un cuore glaciale va a protestare dall'abito sempre con molta concompostezza ma la sensazione è che questo episodio magari ne parleremo domani abbia condannato la Juve abbia condannato la Juve anche se poi sappiamo che non si può ci si può attaccare troppo agli episodi quando tu giochi tutto il secondo tempo una partita del genere in superiorità numerica quando tu nella partita andata hai regalato due gol di cui uno al primissimo minuto proprio che non si vede neanche in seconda categoria hai commesso purtroppo degli errori di valutazione io non lo so se di valutazione hai commesso degli errori degli errori tecnici bravissimi che a questi livelli purtroppo paghi perché il Porto ripeto un'onesta squadra di mestieranti di gente che sta a giocare a calcio ma non è certamente né il Bayern Monaco né il Manchester City né il Barcellona del Beitempio insomma è una buona squadra probabilmente poi 4 uscirà anche dalla Champions quindi io in tutta onestà ritengo che il problema per quanto riguarda la Juve sia il rapporto alla Champions League di natura psicologica io tante volte lo dicevo anche scherzando la Juve per quanto riguarda la Champions è un bisogno dello psicologo non so chiamatelo mental coach chiamatelo cioè queste questione non vengono affrontate col giusto spirito vengono affrontate sempre come se fossero non so delle partite avverse contro ogni pensate che si prevedeva nelle quote di Juventus Porto 1,40 4,57 erano le quote pensate un po' la Juve poi effettivamente ha vinto 2-1 dimostrazione che le quote erano giuste ma purtroppo naturalmente bisogna valutare anche la partita d'andata e quindi si è andati ai tempi supplementari quindi io penso che il problema sia psicologico credo che andranno Agnelli e la società l'hanno veramente incazzati perché uscire ancora una volta all'ottavo di finale dopo aver cambiato tutti questi allenatori avevi provato con Sarri avevi provato con Pirlo certo la scelta di Pirlo chiaramente è stata molto rischiosa perché cioè il concetto che dico io è questo io dico questo faccio un ragionamento molto semplice cioè per mettere in campo questa squadra un 4-4-2 e vale a dire scelmi tra i pali la ripeto la formazione quadrato Bonucci Demiral Alessandro Chiesa Arthur Rabiot Ramsey Morata Cristiano Ronaldo eravamo buoni tutti cioè io non contesto i metodi di allenamento di Pirlo e tutto quanto però non vedo questo se non altro Sarri ci ha provato a giocare bene non è che vedo questa genialità insomma nella formazione fatta da Pirlo insomma nell'idea di calcio che ha Pirlo quindi non lo so non lo so io lo so che questa squadra in Champions ripeto ancora una volta ha sempre problemi con qualsiasi allenatore quindi andiamo a leggere intanto anche le altre partite di questo turno di Champions League che tra il 10 e il 17 marzo saranno giocate oltre a Juve Potto quindi Paris San Germain Baccellona Liva e Pulizia Real Madrid Atalanta Atalanta a questo punto è l'unica italiana rimasta a presentarci in Champions League auguri tanti auguri alla squadra di Gasperini che ieri ha giocato una grandissima partita a San Siro contro l'Inter ma vedere il calcio com'è grande partita dell'Atalanta l'Inter ha giocato una partita tutta sui nervi facendo leva su questa grande difesa e io ho sempre detto che la migliore del campionato con questi tre difensori Skrini and De Vrij e Bastoni ma grandissimo portiere Andanovic quando questa difesa viene protetta bene soprattutto sulle fasce laterali veramente dal meglio di sé ieri Skrini ha assinato anche il gol vittoria ma grande partita dell'Atalanta che non meritava assolutamente di perdere speriamo che sia più fortunata a Madrid è una partita difficilissima ma anche storica molto dipenderà dai giocatori che recupereranno il Madrid perché all'andata mancavano tanti giocatori certo se dovesse giocare con la squadra tipo sarà molto difficile per i Bergamaschi ma sarà comunque una grandissima partita in programma 16 marzo c'è poi Manchester City Borussia di Mönchengladbach Chelsea Atletico Madrid l'altra partita molto interessante all'andata ha vinto il Chelsea a sorpresa 1 a 0 e poi c'è Bayern Monaco Lazio Bayern Monaco è troppo forte in questo momento per la Lazio la squadra è campione del mondo d'Europa e di Germania e non avrà problemi dopo l'1-4 mi pare che è finita la partita all'andata a sbattere ad assicurarsi la qualificazione tornando alla Juve vi ripeto grande sorpresa la parte mia non mi aspettavo questo risultato ha pesato ripeto ancora una volta tantissimo la gara d'andata perché non si possono regalare gol a questi livelli in quella maniera lì poi un'altra cosa che ha pesato mi spiace dirlo che questo doppio confronto ripeto Cristiano Ronaldo non è stata all'altezza della situazione non è stata all'altezza soprattutto dei soldi che guadagna perché io non ho assolutamente visto il solito Cristiano Ronaldo in queste due partite tra l'altro Pirlo l'aveva anche lasciato riposare apposta contro la Lazio sembra che questo abbia sortito un risultato negativo perché Cristiano Ronaldo visto oggi non è il solito Cristiano Ronaldo quindi a questo punto grande rimescolamento della situazione anche in ottica campionato con la Juve che aveva molto più tempo da dedicare anche al campionato e quindi concentrerà tutte le sue energie situazioni un po' particolari perché ai primi di marzo le due squadre ci sono due squadre che l'8 sono già fuori dalle coppe europee Inter e Juventus mentre il Milan è impegnato anche in Europa League e la quarta in classifica anche è impegnata in Europa League e la Roma anche la quinta è impegnata e l'Atalanta ancora in Champions League quindi quelle che sono Inter e Juve sono in lotta per lo scudetto ma sono anche fuori dalle dalle coppe quindi credo ci sarà un grande duello fino alla fine poco fa Inter e Juventus ripeto non commentiamo l'errore di lamentarci troppo di questo rigore non dato all'ultimo minuto di questa sfida che conferma comunque che il trattamento della Juventus è sempre stato diverso in ambito italiano in ambito europeo sono due la Juve non viene tutelata in Europa come viene tutelata in Italia e questo è un fattore un fattore che ha spesso inciso anche nell'assegnazione degli scudetti e ha inciso anche nelle mancate vittorie in ambito europeo la Juve non perde questa qualificazione perché non è stata d'autorico all'ultimo minuto perde questa qualificazione perché non ha avuto la capacità di chiudere questa partita quando era in netta in superiorità numerica colto il posto sul 2 a 1 la Juve doveva segnare il terzo gol ha aspettato troppo ha sprecato troppo troppi passaggi sbagliati troppa foga in alcune situazioni ed è lì che c'è stata forse anche troppa fiducia troppa sicurezza non lo so va analizzata anche dal punto di vista psicologico questa partita va rivista e analizzata per capire meglio quali sono stati gli errori ripeto la Juve sono giocatori che non mi convincono del tutto tu non vinci una Champions League con un centrocampo Rabiot Ramsey McKennie questi giocatori qui c'è qualcosa che non quadra anche se è stato qualcosa che non quadra probabilmente anche nel nel calcio mercato diciamo una costruzione della squadra è un'ottima squadra ma ripeto non vinci la Champions League con questo centrocampo non basta avere Cristiano Ronaldo non basta avere Messi non basta avere Bappé bisogna è la squadra che nel tuo complesso deve raggiungere un certo livello poi sentivo qualche critica anche a Cerny a Cerny su questa punizione ma purtroppo lì quella palla non deve passare sotto la barriera è quello il discorso negli ultimi anni avrete notato che c'è un po' la moda di far sdraiare un giocatore dietro la barriera completamente sdraiato proprio per bloccare questi tiri in questa situazione avrebbe salvato probabilmente la qualificazione una scelta del genere mentre un giocatore sdraiato in orizzontale avrebbe consigliato a Olivera di non tirare la sua terra e comunque avrebbe impedito al pallone di passare quindi questa cosa qualche riflessione va fatta perché questi sono giocatori che tecnicamente sanno calciare la palla come vogliono sanno mandarla dove vogliono se in barriera i giocatori saltano è chiaro che si apre un vuoto col fienno del po' è facile parlare però io sinceramente considerando la tecnica buona tecnica di Olivera io sinceramente un giocatore sdraiato dietro ce l'aveva messo perché avrebbe risolto molti problemi perché quella palla non sarebbe mai arrivata Cerni purtroppo è stato sorpreso si è mosso con quell'attimo di ritardo ripeto che a questi livelli purtroppo io in presa diretta abbiamo penso un po' tutti visto questa partita che era visibile anche in chiaro sul canale 5 avevo pensato che l'avesse parata in presa diretta invece l'ha toccata ma la palla è entrata non è un tiro violentissimo è un tiro che purtroppo ha visto partire ha visto che ha visto arrivare questo pallone con un attimo di ritardo e l'attimo di ritardo purtroppo nel gioco del calcio fa tutta la differenza di questo mondo continuate a seguirmi oggi vi siete un sacco un sacco di persone che sono iscritte al mio canale vi ringrazio veramente tanto continuate a seguirmi iscrivetevi commentate schiacciate la campanella e soprattutto buonanotte